Uno degli arrestati era soprannominato il poeta per come recitava della condizione disperata di congiunti ridotti in fin di vita da qualche cancro maligno ai farmacisti più scrupolosi che gli chiedevano a chi servissero i farmaci. Un altro, un operatore sociosanitario, i carabinieri lo hanno ammanettato in ospedale, faceva il badante di notte ad un paziente. Come ossa aveva svolto un tirocinio all'annunziata e lì aveva rubato parte dei ricettari utilizzati per acquistare il durogesic, l'analgesico venduto sotto forma di cerotti da applicare sulla pelle, contenente il fentanyl, potente opioide sintetico più efficace della morfina, normalmente destinato ai malati terminali per alleviare le loro sofferenze. Questo mercato nero, alimentato da prescrizioni contraffatte con timbri intestati a medici in pensione o addirittura inesistenti, ha fruttato agli spacciatori circa 80.000 euro. È un'indagine importante perché ci fa entrare nell'universo dark della droga. Dark significa buio. È il mondo caratterizzato dalla necessità di procurarsi in ogni caso, con ogni modalità, che cosa? Uno stupefacente che non è lo stupefacente naturale di cui noi abbiamo sempre parlato. Qui stiamo parlando di cerotti con efficacia dopante. I cerotti acquistati a cavico del Servizio Sanitario Nazionale venivano rivenduti a pezzo intero oppure anche in strisce di taglio ridotto e i tossicodipendenti. Tutti di Bisignano i destinatari delle misure cautelari. Quattro persone sono finite in carcere, una i domiciliari per una sesta e il GIP ha disposto l'obbligo di dimora. Ottante i militari impiegati anche per eseguire diversi decreti di perquisizione domiciliare a carico di altri indagati a piede libero. Tra loro anche alcuni minori. Una signora si è presentata alla stazione Carabinieri di Bisignano nel maggio del 2017 e ha segnalato le condotte del figlio che era solito acquistare e utilizzare dei cerotti ad effetto stupefacente. Salvatore Bruno per la Cineus 24.